Con questo video andremo a rivisitare per l'ultima volta la piattaforma Intel X58 con i suoi processori Intel Core Reset di prima generazione Xeon per vedere se ancora al giorno d'oggi possono essere quantomeno un minimo rilevanti Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro intendaro pazzo Oggi siamo qui con questo video dove andiamo a rivedere le prestazioni nel 2024 di uno dei processori in particolar modo migliori sulla piattaforma X58 che fu la prima piattaforma i-end desktop di Intel per la fascia degli Intel Core di prima generazione e inoltre insieme anche agli Xeon Infatti proprio di Xeon si parlerà in questo video e proprio di Xeon andremo a parlare perché qui ho lo Xeon X5680 che probabilmente è uno dei migliori processori su questa architettura e su questa piattaforma Prima di continuare col video ovviamente vi invito a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche così da non perdervi nessun video che uscirà sempre qui la domenica alle 2 di pomeriggio Vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali telegram di offerte uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi e l'altro invece per l'usato in entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon quindi state coperti da garanzia e assistenza sempre al top quindi mi raccomando iscrivetevi perché fate un favore a voi e al vostro portafoglio e infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok e ora riprendiamo col video Partendo con un piccolo accenno storico per quanto riguarda la piattaforma in generale e le schede madri oggi vi ho già detto che andiamo a parlare di X58 che è il chipset fatto da Intel appunto per queste schede madri su socket LGA1366 che furono le prime a supportare gli Intel Core di prima generazione infatti i primi i7 come gli i7 920, i930 e via così che erano dei 4 core auto thread venivano supportati proprio da queste schede madri che erano da considerarsi di fascia high end poi ovviamente con l'uscita del socket 1.1.5.6 ecco questi Intel Core i7 di prima generazione sbarcarono anche nella piattaforma insomma nel mercato consumer però la piattaforma X58 continuò a vivere diciamo così anche con l'uscita di processori un pochino più avanzati come i Gulf Town di cui abbiamo visto il più grande esponente cioè l'i7 980X sul suo video dedicato alla build del 2010 da 3.000 euro di cui vi lascio linkato il video qua in alto e poi ecco nel 2011 insomma anche parte del 2010 uscirono ecco l'ultima versione, l'ultima architettura che prese ecco posto su questa piattaforma cioè la Westmere EP in questo caso rappresentata dal qui presente Xeon X5680 alla fine queste ultime due architetture non presentano particolari differenze rispetto alla prima se non per il fatto che il core count in queste ultime due architetture Gulf Town e Westmere arrivi fino a 6 core quindi in questo caso abbiamo un processore a 6 core e 12 thread e quindi non 4 core 8 thread come la prima versione insomma di questa architettura cioè quella Bloomfield dei primi i7 e quindi tutto questo potrebbe ancora tornare utile perché se all'epoca nel 2010, inizio 2011 ecco 6 core e 12 thread erano qualcosa di spaziale al giorno d'oggi sono praticamente la normalità ovviamente parliamo poi di una CPU che ha 14 anni quindi se sommiamo questo e il fatto che poi ecco anche come numero di core non parliamo di un numero stratosferico ecco dobbiamo fare un po' i conti poi con le prestazioni che andiamo a vedere ed effettivamente quello che faremo proprio oggi perché sì scendendo un po' più nello specifico di questa CPU ci troviamo davanti sì un 6 core 12 thread quindi con hyper trading attivo con un base clock di 3,33 gigahertz e un turbo boost diciamo di 3,46 una roba del genere quindi veramente poco ma con la possibilità di fare overclock che ovviamente oggi andremo a vedere perché ecco in questa CPU si poteva fare un bel overclock che dava un bel boost ecco poi alle prestazioni all'interno ritroviamo anche 12 megabyte di cache di livello 3 e un TDP di 130 watt insomma anche questo utile poi per fare overclock abbiamo un bel margine ecco e forse più attenti di voi si saranno accorti che le specifiche tecniche tra questo Xeon che ho in mano e l'i7 980X che abbiamo già visto in passato sono praticamente identiche cioè proprio spiccicate e effettivamente sì l'unica cosa che sembra cambiare è l'architettura perché da Gulf Town si passa a Westmere ma in realtà questo cambio di architettura sarebbe sostanzialmente ecco un modo soltanto per identificare queste due fasce di processori perché questo Xeon ecco l'unica cosa per cui differisce è il fatto di avere un supporto a quantitativi di RAM maggiori e poi alcune feature ecco uniche di questa fascia di processori da server appunto degli Xeon però il core alla base le prestazioni dell'IPC in sostanza sono praticamente le stesse identiche ecco quindi parliamo in sostanza dello stesso processore quindi però prima di passare a tutti i test e i benchmark ci tengo ovviamente a parlarvi un attimo della piattaforma di test perché sì io avevo qua vedete due schede Matrix 58 questa che tra l'altro usai in un vecchissimo video dove era mandata a vedere questo 980X all'opera in titoli relativamente moderni che però ecco io volevo utilizzare questa scheda madre ma l'ho messa su e non funzionava ci ho perso una giornata per cercare di capire cosa fosse se fosse la CPU fossero le RAM ma in entrambi i casi ecco era tutta roba che già avevo testato in passato e funzionava e quindi effettivamente dopo diversi test ho provato anche a riscrivere il BIOS con la chiavetta programmatrice di cui vi lascio linkato qua sopra il video se qualcuno di voi dovesse servire però ecco in questo caso non era un problema di BIOS non so bene cosa sia successo con questa scheda madre fatto sta che è proprio morta quindi ecco l'ho messa qui per ricordo però sì ecco mi ha fatto passare delle 24 ore veramente estenuanti e quindi sono andato a smontare completamente il PC con Windows 7 quello di cui vi ho linkato prima il video per tirare fuori questa scheda madre che è appunto sempre dell'ASUS sempre X58 e questa invece funzionava per fortuna non è morta nel mentre e quindi ecco i test li vedremo su questa scheda madre e come quantitativo di RAM siamo su 24 GB di RAM DDR3 in 3 banchi da 8 GB da 1600 MHz CL11 poi per i test in overclock andremo a vedere in realtà la frequenza che ho utilizzato è più bassa intorno ai 1100 MHz per il fatto che andando a fare overclock in questo caso si andava anche a modificare il base clock del Norbridge e quindi questo influenzava abbastanza la frequenza che poteva avere la RAM non volevo perderci una giornata anche qui per regolare apposta le RAM essendo anche RAM abbastanza mediocre quindi ecco mi sono tenuto basso e quindi mi sono avvantaggiato soltanto col fatto di avere il triple channel su questa scheda madre per quanto riguarda il dissipatore ho utilizzato un Deepcool da 240 mm come radiatore quindi ecco un dissipatore liquido all in one come alimentatore un EVGA GQ 1000 Watt 80 plus gold e come scheda video ho utilizzato la RTX 3090 così andiamo a vedere una volta per tutte ecco come si comportano questi processori questa architettura nel 2024 e se è ancora rilevante quindi detto questo direi di passare al tutorial di overclock insomma i settaggi che ho utilizzato e poi ecco ai benchmark partendo col tutorial di overclock le prime cose da fare saranno settare il CPU ratio in questo caso 25 per arrivare a una frequenza moltiplicandola col base clock frequency di circa 4,3 GHz una cosa che vi consiglio è tenere il base clock frequency multiplo di 33 MHz quindi tipo 166, 200 in questo modo avremo una frequenza della DRAM che sarà molto più vicina ai valori standard tipo DDR3 1600 MHz o 1333 l'uncore frequency lo possiamo tenere intorno ai 3 GHz 3,2 non tanto oltre 3,6 perché ho visto che inizia a non essere molto stabile il QPI link data rate anche questo il valore più basso possibile così da mantenere un overclock stabile qua poi volendo possiamo anche andare a settare la nostra DRAM ma in questo caso vi ho detto non sono andato a impostare questi valori mentre ecco il CPU voltage è importante per queste frequenze di 4,3 GHz 1.35 V vanno bene ma appunto anche 1.33 V dovrebbe reggere senza troppi problemi PLL voltage anche questo se andiamo su un base clock di circa 200 MHz lo dobbiamo aumentare a 1,9 se no anche 1,88 V vanno benissimo e ecco sì il DRAM bass voltage lo dobbiamo aumentare cioè il voltaggio della RAM se ovviamente andiamo a fare overclock spinto altro parametro, altri parametri importanti sono load line calibration attivo e il CPU spread spectrum e PCI spread spectrum disabilitati e questi sono principalmente i parametri che andremo a utilizzare per questo overclock ma ripeto io sono stato anche un pochino sfigato secondo me perché queste CPU arrivavano senza tanti problemi anche a 4,6 GHz però in questo caso ecco questa CPU c'era poco da fare ma era stabile solo a 4.3 iniziando col primo benchmark di produttività abbiamo Cinebench R23 stock in multicore 4070 punti contro 4924 dell'overclock single core 527 contro 665 quindi buoni incrementi anche se effettivamente i punteggi sono comunque molto bassi Cinebench 2024 qui abbiamo una situazione abbastanza disastrata per il fatto che il benchmark non parte visto che non abbiamo il set di istruzioni AVX2 all'interno della CPU 7-Zip invece funziona e abbiamo buoni incrementi sia in compressione che in decompressione grazie all'overclock passiamo da 37.000 punti della decompressione fino a 46.000 punti di Gips insomma con l'overclock su Blender open data 4.0 stock 49 punti e overclock 63 quindi buon incremento considerando l'overclock però parliamo in ogni caso di punteggi molto bassi anche considerando che il benchmark viene eseguito su una CPU e non su una GPU Geekbench 6 abbiamo punteggi a stock multicore 2485 punti contro 3125 single core 533 contro 672 quindi anche qua non male appunto l'overclock diciamo da un po' più di respiro a questa CPU su Corona Benchmark 1.3 passiamo da 273 secondi per il rendering dell'immagine e scendiamo a 209 secondi quindi niente male effettivamente per questo risultato su DaVinci Resolve col Puget Benchmark abbiamo un punteggiato stock di 1213 punti e in overclock passiamo a 1447 quindi anche qua un buon incremento effettivamente per l'overclock e finiamo con V-Ray 6 in questo caso stock fa 2603 v-samples e in overclock arriviamo fino a 3800 quindi anche qua un enorme incremento anche se ripeto le prestazioni poi effettivamente non sono elevatissime relativamente ad altri processori su Control, Intellect X12 passando ai giochi in Full HD e setagili di Digital Foundry abbiamo che in overclock arriviamo a 139 fps veramente risultato eccezionale, incredibile secondo me con un percentuale veramente molto alto quindi comunque un'esperienza di gioco in questo caso molto giocabile però se passiamo poi ad altri titoli e qua diciamo c'è il tasto dolente per esempio Alan Wake 2 non partono neanche come stiamo vedendo in questo caso perché questi giochi hanno bisogno ecco delle istruzioni AVX2 e nel caso di Death Stranding è un altro gioco che non parte in questo caso invece basterebbero le istruzioni AVX quindi quelle che hanno per esempio anche le CPU Sandy Bridge o Ivy Bridge quindi seconda e terza gen questa essendo di prima non ha neanche queste istruzioni e quindi questi giochi non vanno Fortnite funziona con il capitolo 5 stagione 2 nella modalità rissa squadre che è un po' più pesante lato CPU e facciamo però ecco un framerate di 88 fps con un percentuale di 40 che diciamo non è male è giocabile però sicuramente non è un'esperienza di gioco molto competitiva e qui poi tra l'altro ho fatto i benchmark direttamente in overclock perché ecco a stock avremmo ottenuto risultati anche più bassi God of War full HD settaggi alti qui abbiamo un ottimo framerate secondo me perfettamente godibile per un'esperienza di gioco fluida e di un titolo alla fine AAA non competitivo quindi abbiamo 78,9 fps con un percentuale veramente vicino ai 60 quindi 55 fps quindi ecco per God of War devo dire niente male effettivamente questo processore e se passiamo poi a un altro titolone come Cyberpunk full HD settaggi di hardware unboxed abbiamo sempre con l'overclock 51,8 fps ovviamente misurato nella zona più pesante del gioco che è quella del mercato e quindi poi con un percentuale di 31 fps quindi alla fine anche Cyberpunk con poi la giusta scheda grafica è perfettamente giocabile anche con questa CPU pur non facendo ecco framerate elevatissimi The Finals che è un gioco su Unreal Engine 5 full HD DLSS quality e ray tracing con settaggi medi abbiamo 52 fps,8 con un percentuale comunque abbastanza sostenuto ecco sopra i 30 fps quindi ecco non sarà un'esperienza di gioco competitiva però ecco questo poteva essere benissimo un gioco in cui che probabilmente non poteva anche non partire e invece insomma già è qualcosa che funziona e almeno qualcosa che riusciamo a giocare su Resident Evil 4 Remake full HD e settaggi priorità alla grafica abbiamo anche qua un ottimo framerate per un gioco AAA uscito praticamente un anno fa abbiamo 74 fps di media con un percentuale di 55 fps quindi davvero niente male per questi titoli insomma comunque pesanti lato grafico ma anche CPU e finendo con Counter Strike 2 in full HD settaggi medi senza upscaling abbiamo dei risultati abbastanza deludenti secondo me perché questo poi è un gioco che ha bisogno ecco per essere giocato un minimo decentemente di framerate elevati e invece facciamo più o meno gli stessi framing che facevamo in titoli AAA quindi ecco questo gioco magari non è proprio il massimo da giocare con questa CPU e ora direi di passare alle considerazioni finali ed eccoci qui ragazzi dopo aver visto i benchmark e che dire secondo me non ci sarebbe neanche bisogno più di tanto di fare delle conclusioni perché i test parlano abbastanza chiaro da soli però le facciamo lo stesso per completezza abbiamo visto purtroppo ecco molti titoli odierni non girare proprio, non partire neanche per il fatto che questa generazione di processori non aveva al suo interno dei set di istruzioni ormai diventati fondamentali cioè gli AVX e AVX2 presenti anche dalla generazione successiva insomma quindi dagli set Xeon su Socket 2011 insomma i primi avevano set di istruzioni AVX poi con la quarta generazione quindi gli Ashwell quindi tutti gli Xeon su Socket 2011-3 e insomma piattaforma X99 arrivavano ad avere anche questi set di istruzioni AVX2 quindi parliamo di processori usciti fino a 4 anni dopo rispetto a questi che invece ecco sono ben più equipaggiati e hanno prestazioni superiori e fanno girare effettivamente tutto senza problemi quindi ecco con il fatto che abbiamo queste architetture queste piattaforme che veramente costano praticamente uguale si possono trovare facilmente anche nel mercato dell'usato oppure dagli express che fanno girare ripeto tutto quanto senza problemi questa piattaforma X58 di riflesso diventa praticamente ecco per un pc odierno obsoleta a mio parere perché sì ok l'overclock effettivamente aiuta le prestazioni non poco perché abbiamo visto degli aumenti anche di un sacco di punti percentuali effettivamente abbiamo aumentato di 1 GHz le frequenze però non è questo che salva la situazione abbiamo visto se mancano dei set di istruzioni purtroppo questi giochi non possiamo giocarli ed effettivamente ecco il livello di prestazioni se è basso ok possiamo anche aumentarlo in percentuale però rimane comunque molto basso effettivamente quindi ecco questa piattaforma mi sentirei di consigliarvela se ecco sicuramente se volete ricreare un pc come quello che abbiamo fatto con windows 7 il pc più potente del 2010 quindi ecco più un retro computer o per giocare a vecchi giochi va sicuramente benissimo però ecco per un pc odierno potrebbe andar bene magari sì per un pc da ufficio per fare task di base e magari sì qualcosina ancora giochi chiare perché abbiamo visto qualcosa ancora si gira anzi per esempio The Finals scendendo nello specifico sono rimasto anche stupito che girasse effettivamente così bene perché è un titolo molto pesante sulla CPU su Unreal Engine 5 e quant'altro però ecco poi molti altri titoli ripeto abbiamo visto che non partono neanche e quindi arrivando alla questione prezzi sì se queste piattaforme costassero per esempio come le vecchie schede madri su Socket 775 con i Core 2 Quad quindi veramente una manciata di spicci vi direi anche boh ci può stare per un pc appunto senza molte pretese quindi il problema è che queste schede madri ancora oggi non tanto le CPU che si possono trovare sui 10-15 euro massimo 20 euro quindi insomma non parliamo di una spesa enorme ma ecco le schede madri ripeto sono qualcosa veramente di particolare per il fatto che costano ancora e vi fanno pagare tra i 50 e i 100 euro e anche a salire in alcuni casi per qualche modello più speciale però ecco questa cifra secondo me non ha proprio senso andare su questa piattaforma per il fatto che ci sono delle alternative nettamente migliori se guardiamo solo a Intel nella fascia high-end desktop passata la X79 e X99 sono sicuramente più interessanti se invece vogliamo andare ecco su piattaforme odierne il Socket AM4 è sicuramente quello più consigliabile per il fatto anche lì che non c'è una grossa differenza di prezzo tra questa piattaforma e ripeto una sul Socket AM4 che però ecco parliamo di un livello di prestazioni compatibilità e upgradeabilità completamente diverso quindi ecco con questo video ho voluto un po' chiudere un cerchio riguardo questa piattaforma per il fatto che vi dico subito non credo che in futuro andremo a rivisitare di nuovo questi processori e insomma questo Socket per il fatto che già oggi abbiamo visto insomma non è più ecco in grado di farci giocare insomma tutto quanto e insomma ha le sue grandissime limitazioni quindi a meno che ecco non vogliamo andare a fare di nuovo dei retrocomputer o magari i prezzi calino a picco cosa secondo me veramente molto difficile sì ecco questa piattaforma in generale ecco ormai la lasciamo nella Hall of Fame dell'ardore informatico ecco per tutte le sue innovazioni che all'epoca portò ma che ecco ormai dopo 14 anni dall'uscita insomma lo dobbiamo lasciare lì dov'è e non dobbiamo più tenere in considerazione e se siete arrivati fin qui spero che il video vi sia piaciuto se è così mi raccomando lasciate un bel mi piace qua sotto e fatemi sapere con un commentino cosa ne pensate di queste X58 se ne avete avuto anche voi una in passato se ne avete ancora al giorno d'oggi e detto questo vi invito anche a guardare due video che se non l'avete visto vi consiglio molto di vedere il primo è quello sullo Xeon 2697V3 che abbiamo visto insomma qua nel canale a inizio gennaio Xeon su architettura Ashwell da Ben 14 core e 28 thread mentre il secondo video che vi consiglio è quello sul retro computer di Windows 7 dove abbiamo visto all'opera l'i7 980X e insomma la build del 2010 da 3000€ detto questo è tutto e io come sempre non posso far altro che ringraziarvi per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti